Resta alta l'attenzione in Friuli Venezia Giulia nei confronti dei flussi migranti, che da settimane stanno mettendo a dura prova tanti piccoli comuni. Ricordiamo il recente episodio che ha coinvolto il sindaco di Gonars, Boemo, che si era avventurato in un viaggio diretto a Roma accompagnato dal comandante di polizia locale con a bordo di un pulmino alcuni stranieri minori e poi bloccato a Bologna dove i ragazzi hanno trovato una sistemazione. Si attende in regione l'arrivo del ministro Lamorgese per trovare possibili soluzioni e dare indicazioni precise ai sindaci e alla prefettura di Udine. Nel frattempo la deputata Deborah Seracchiana ha fatto prevenire al Viminale un documento nel quale riassume la vicenda che aveva coinvolto il sindaco Boemo, interrogando il governo sulla censurabilità dell'accaduto e sul disagio che sta vivendo il nostro territorio, con la conseguente necessità di rivedere tutta la legislatura. Altro tema caldo in Friuli Venezia Giulia è la riapertura delle scuole. Nonostante tutti i dubbi e le perplessità che assilano famiglie docenti, la ministra Zolina ha confermato che il 14 settembre gli studenti torneranno in classe. Per l'anno scolastico 2020-21 sarà obbligatorio, dopo i sei anni di età, l'uso della mascherina e dovrà essere garantito il distanziamento. Non sarà obbligatoria la misurazione della temperatura per alunni e docenti, ma non potranno accedere alla scuola coloro che presenteranno sintomatologie respiratorie e una temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi. Con l'arrivo dell'autunno sarà difficile distinguere una semplice influenza dai sintomi del coronavirus e gli accertamenti potrebbero richiedere tempi dilattati per il rientro poi dei docenti e degli alunni. I medici e i pediatri consigliano i vaccini influenzali alle famiglie e al personale scolastico, innescando ulteriori discussioni in aggiunta alle controversie ancora accese in merito alla vaccinazione obbligatoria per i bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Il rettore dell'Università di Udine conferma che l'Ateneo è pronto ad affrontare la fase 3. Sono infatti garantite nuove linee guida per le lezioni a distanza e la didattica in presenza per gli alunni del primo anno. I presidi dei vari istituti si stanno organizzando con tutti gli interventi di adeguamento alle aule e agli edifici, con una ormai dichiarata insufficienza di organico tra docenti, collaboratori tecnici e personale atta. Segnaliamo che al momento i tessi erologici volontari previsti per il personale scolastico sono sospesi, in quanto non è stato possibile rendere noto l'elenco dei medici che potranno effettuare le specifiche analisi. A partire dal 1 settembre, con il rientro a scuola del personale docente e gli esami di riparazioni, ci sarà la prova generale prima della ripartenza per tutti gli studenti e le famiglie si augurano che si possa iniziare l'anno scolastico con un servizio di trasporto pubblico, efficiente su tutto il territorio e sicuro sotto il profilo sanitario. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science.